Salve a tutti giocatori, benvenuti in un nostro nuovo video Dovevo condividere questo Structure Tech Perché lo Structure Tech del Drago Finale Aoki Blue Deve essere degno di menzione Anche se non è propriamente il nostro Yugi Diciamolo, è roba dell'altro Yugi Sarà così che ti doverò questi video Roba dell'altro Yugi Spero che non mi... Che non mi mezzo denunciano Denuncino per fregamento di città Insomma, prima di iniziare come sempre ragazzi Invite a iscrivervi al nostro canale Prima di sempre, aggiornati con il mondo di Yugi Mi raccomando, è importantissimo L'iscrizione ci aiuta veramente tantissimo Grazie mille E andiamo a vedere le carte che compongono questo deck Ovviamente Cioè lui è così, eh Te lo dovrebbero dare così Cioè cosa vogliamo dire? Se non grazie Eh? Guarda che roba Poi Abbiamo un drago bianco Che 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 Fa la sua sporca figura così, eh E' fatto bene Andiamo a vedere qualche cartina nuova Abbiamo il Blue Eyes Bright Dragon Che Allora, in un momento di questa carta diventa sempre un drago bianco Quando è sul... Nella mano Nella mano Sono abituato al terreno Non nella mano Custom Andiamo la prima carta al deck al cimitero Questo turno il nome di questa carta diventa Drago bianco chi blu Guadagna 500 Poi se abbiamo scoperto un mostro leggenda normale sul terreno Possiamo distruggere un mostro scoperto a livello 8 o inferiore sul terreno dell'avversario Ok Tra l'altro dato che è leggenda può avere soltanto un drago bianco chi blu Di conseguenza questi ci devono avere il nome Appunto Nella mano In modo che tu li possa calare Mi sto fermando perché è bellissimo Blue Eyes Vision Dragon Se abbiamo un mostro scoperto a livello 8 o superiore al drago sul terreno Possiamo magari specialmente questa carta alla mano Scoperto in difesa Mandiamo la prima carta del mazzo al cimitero Come costa? Questo turno il nome diventa un drago bianco chi blu E se evochiamo tramite fusione Un drago finale Lui Questa carta scoperta vale come due materiali Bene 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 Non male Non male Ci piace Però Beh Lui è tipo la quarta volta che lo vedo E quattro volte che mi stoppo perché è fighissimo Tra l'altro gli sta facendo la mossa di Bardach Contro Freezer Durante la One Phase Se questa carta viene evocando normalmente o specialmente Come costo Sotteniamo le prime quattro carte del mazzo Possiamo aggiungere un mostro allo 8 luce drago E oppure un ultimate blue eyes legend E oppure un ultimate blue eyes legend Alla mano Mischiamo il resto del mazzo Ma lui è un qualcosa di assolutamente bellissimo Spettacolare Poi abbiamo il node dragon Durante la node of legend Il turno in cui viene evocato Mandiamo la prima carta del mazzo al cimitero Aggiungiamo un The origin stone of legend O sanctum of legend Dal mazzo Dal cimitero Alla mano Sono abituato con altri effetti Donate la One Phase Questa carta è stata evocata normalmente o specialmente Mandiamo due mostri livello 4 o inferiore con effetto al terreno al cimitero E evocchiamo specialmente un mostro livello 8 drago luce Dal cimitero scoperto sul terreno In questo turno I nostri livello 7 o inferiore non possono attaccare In soul drake Phoenix dragon Se abbiamo 10 o più carte nel deck Mandiamo un mostro livello al cimitero Guadagnavo 300 Poi se abbiamo un mostro livello 8 nel cimitero Peschiamo 1 Ok Guardate come triggerano bene gli effetti Iorosario Ancient Arise dragon Mandiamo la prima carta del deck Al cimitero Guadagna 600 Fino alla fine del turno Se abbiamo clear ice dragon Burning blaze dragon Nel cimitero Possiamo anche mischiarli Entrambi nel mazzo E se lo facciamo Isoggiamo un mostro scoperto Con 1500 di difesa O inferiore Sul terreno dell'avversario Unsent Arise dragon Mandiamo una carta dalla mano al cimitero Fino ad un mostro scoperto sul terreno dell'avversario Prendono 400 fino all'end Poi possiamo guadagnare specialmente Fino ad un clear ice dragon E burning blaze dragon Dal cimitero scoperti sul terreno Clear ice dragon Piazziamo un mostro 5 O inferiore drago Dal cimitero nel mazzo Mischiamo due mostri Nel cimitero dell'avversario Nel mazzo Abbiamo il burning blaze Giustamente Piazziamo un mostro 5 O inferiore drago Dal cimitero Nel fondo al mazzo Distruggiamo Una magia Terreno Scoperta sul terreno dell'avversario Può essere utile E fige Doppio tributo Ah no Si Poi abbiamo Questi sono bellissimi Perché con il fatto che tu puoi fare Una roba al quanto ti pare Puoi mettere sti draghi Che sono fighissimi Sono tutti diversi Sono fighissimi Mite li giochi tutte e tre E te li mandi al cimitero A fai drago bianco e chi blu C'ha questa cosa Che io adoro Vedete C'hanno tutti i 1500 E' bello 4 Io li adoro Questo non troppo Però Siesta torero Mischiamo tre mostri Dal cimitero nel mazzo Cambiamo la posizione Di un mostro Nel 8 inferiore Dell'avversario In coperto in difeso Poi possiamo aggiungere Una siesta hold Dal cimitero alla mano Treasor dragons Abbiamo 4 più draghi Nel cimitero Dall'antema in face Che abbiamo evocato Specialmente questa carta Dalla mano al cimitero Peschiamo una carta Ah bello Tria dragon Se l'avversario Un mostro livello 7 O superiore Scoperto sul terreno Noi abbiamo due mostri In posizione di attacco Non livello 3 draghi Sul terreno Peschiamo una carta Cioè E' un 3 test Che ha 300 di attacco Il che fa troppo ridere Kaibaman Fenix dragon Mangiamo una carta Dalla mano al cimitero Raggiungiamo il livello 5 O superiore dragon Dal cimitero alla mano Poi abbiamo Defender Dragon Sorcerer Mandiamo un spellcast E un dragon Dalla mano Al cimitero Un mostro sul terreno Non può essere istrutto Degli effetti Delle carte dell'avversario In questo turno Dumbledome dragon Mandiamo due carte LEC al cimitero Guadagniamo 200 Poi settiamo Un dragon Dumbledome Dal cimitero Dalla magia Trappola Probabilmente Probabilmente La zona magia Oh beh Monsterborn The ultimate Blue-eyed legend Fusiamo un mostro Lo 10 superiore Drago Mandando fino a 3 draghi Dalla mano E otterrendo al cimitero Come materiale In questo turno Il mostro Revogando specialmente Questo effetto Non può essere istrutto Degli effetti Delle carte L'avversario Sanctum of legend Mentre questa carta È scoperta Nella zona field Il mostro scoperto Livello 8 Superiore drago Sul terreno Guadagna 500 Di attacco I mostri scoperti Drago Legend Non possono essere Istrutti Degli effetti Delle carte Ok Quindi i mostri Si pompano E i mostri Legend Non possono essere Rotti Soffo esplosivo Di distruzione Poi abbiamo Il dragon's inferno Se abbiamo un mostro Scoperto drago Sul terreno Spacchiamo una Vaggia tra un po' Nell'avversario Bellissima Bellissima Semplice lineare Ma bellissima Mandiamo 3 draghi Dalla mano al cimitero È buono Perché tanto A fine turno Cioè All'inizio del turno Peschiamo fino ad avere 5 carte Quindi È inutile Avere troppe carte In mano Distruggiamo l'ultimo Situ terreno Se abbiamo distrutto Un mostro A questo effetto Abbiamo specialmente Un drago Di livello 4 Un filone Dal cimitero Sul nostro terreno Scoperto in difesa Baratto Distinto silente Bocotrappola Tesoro Del drago bianco È bellissimo Quando un mostro Sul terreno Viene distrutto Da un attacco Dell'avversario Da un effetto Specialiamo Livello 8 Superiore Luce Drago Dal cimitero Scoperto sul terreno Poi se abbiamo Blue Ice White Dragon Scoperto sul terreno Possiamo distruggere Una carta Sul terreno Dell'avversario Eternal Freeze Quando l'avversario Evoca un mostro Con 2500 O più di attacco Mandiamo un mostro Sul terreno Al cimitero Ovviamente Deve evocarlo Normal Piazziamo il mostro Evocao normalmente In fondo Al mazzo Del proprietario E per finire Double Double Dragon Double Doom Quando un mostro Dell'avversario Dichiaro l'attacco Mentre abbiamo scoperto Un high dragon Oppure un mostro Di tipo drago Sul terreno Possiamo scegliere Scegliamo L'attacchi Dei mostri Dell'avversario Poi se abbiamo Due o più mostri Scoperti Con lo stesso Sul terreno Possiamo spaccare Un mostro Sul terreno Dell'avversario Non male Non male Diciamo che È uno strutturtec Che io vorrei Troppo utilizzare Peccato che Non si gioca A speed Rush 2 Però se Qualora fosse possibile Prenderlo Da qualche parte Io credo proprio che Un pensierino Per portarlo Su un canale Ce lo farei Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa era pensare Ovviamente Dovevo portarlo Per forza Non volevo troppo Condividerlo E fatemi sapere voi Cosa era pensare Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti